Io capisco Joachim e capisco tutti, anche gli amici italiani che sono venuti a Roma, però adesso Filippo insieme a me abbiamo frequentato gli stati in particolare forse nel periodo più buio dell'Italia, quando insomma veramente non potevi andare a Napoli, non potevi andare a Verona, non potevi andare a Torino quando c'era, a Bergamo, a Firenze, a Torino quando c'era il vecchio delle Alpi. Il vecchio delle Alpi, altro che lo stadio Madadesso, dove hanno costruito, noi siamo stati l'anno scorso e io mi ricordo che al delle Alpi, dove ho visto segnare Saviola, al delle Alpi c'era il deserto, altro che il deserto dei tartari, oggi ci stanno case, centri commerciali, negozi eccetera, l'urbanizzazione aiuta a evitare gli scontri. Ecco perché a Chelsea e a Stanford Beach esci insieme Joachim, all'Olimpico non c'hai niente, è lì che si creano i grandi problemi. Poi è sbagliato la polizia come ci ha trattato. Questa sensazione è qua, questa sensazione è qua che dici tu, in tutto questo spazio, ma ce ne stiamo passando, stiamo passando dalla curva nord, tutto questo spazio comunque è dispersivo, comunque è pericoloso secondo me, come dici tu. Sì, mi sono d'accordo, mi sono d'accordo. Va bene ragazzi, io vi ringrazio, abbiamo sforato, ma adesso dobbiamo chiamare anche altre persone. Io vi ringrazio, vi mando un grande abbraccio, è il momento insomma di essere uniti più che mai, non è il momento, su questo i romanisti sono fenomenali ragazzi. Dobbiamo prendere anche esempio, la Roma non si discute, si ama e in questo momento noi non dobbiamo discutere internamente. Perché si sta aspettando che il barzellonismo si divida, si sta aspettando che il barzellonismo si divida. Ma che cosa ci dobbiamo dividere? Come Giovanni ci scriveva prima, ci dobbiamo dividere a una settimana dalla finale di Coppa e con 17 punti da Real Madrid, quanti ne hanno dati? Sì, ho capito, siamo usciti dalla Champions, è un fracasso della Champions, ho capito. E allora il barzellonismo, anche il ragionamento è però nel momento che c'è il più forte giardino del mondo di tutti i tempi, hai vinto solo... Ma il barzellonismo allora ha vinto in 63 edizioni della Coppa Campione di Champions League e per 58 volte ne ha vinta. E allora che fa se devo mettere tutti una pistola in bocca e spararsi? E statistiche non si fanno così, eh? Eh, infatti sì. Allora Napoli che dove ha fatto? Ha vincitato tutto quando c'era Maratona? Eh, eh, Maxi... Scusate, eh. Maxi, diceva l'altro giorno, nella trasmissione precedente, domenica, quando c'era il presidente Tony Freire, diceva Tony che, dice, il problema è, dice, che ci siamo mali abituati, che pensiamo che si deve vincere sempre. Non è così. L'hashtag tifoso occasionale serve anche a far capire che forse, e utilizzo una teoria di Vittorio Pegone, che salutiamo perché ci sta ascoltando, forse non vincere allontana anche i tifosi occasionali, eh? E io, a questo punto di vista, sono contento, perché ho visto il mio primo Barça che vedevo dal vivo, non ha per cinque anni, non ha mai vinto nulla, eh? Quindi, e c'aveva giocatori scandalosi come Coco, Cristianvall, Bonanno, Rochenbach, Giovanni, e posso continuare in Eternis, come dicono i latini. Quindi, va bene ragazzi, un forte abbraccio a tutti e due, mi raccomando. Grazie, ragazzi, grazie di tutto ancora. Un abbraccio, grazie a voi. Un abbraccio a Gio e un abbraccio a te. Ciao ragazzi. Ciao, ciao, ciao Petitio. Ciao, ciao Petitio. Disca sempre. Allora, ormai sono saltati, io lo sapevo che questa puntata non riusciamo a tenerli, Gioachina. Ci sono tante cose che dobbiamo andare a leggere, dobbiamo chiamare tanti altri nostri amici. Ci dobbiamo chiamare pure? Dobbiamo chiamare tante persone, dobbiamo chiamare Albert Parerapuic, dobbiamo chiamare Giussi, dobbiamo sentire l'audio di Valeria, dobbiamo chiamare Sergio Lonetti, Pietro Locatelli. E va bene, allora, cominciamo. Alessandro Esposito, errore nella pianificazione sportiva, poca tuttilità di Valverde, messi in dipendenza, esclusione della cantera, speriamo finisca presto questa stagione e senza ulteriori sorprese. Valentina Giuffre, grazie per la compagnia. Max, stasera abbiamo proprio bisogno di stare ancora tutti insieme. La stristezza non passa, il buato dell'Olimpico nemmeno. Colgo l'occasione per ringraziare tutte le splendide persone che ho conosciuto martedì. Salutiamo Milena Schiavi-Roverio della Pegna di Torino. Scrive, altra vergogna, il taxi. La polizia ci ha mandato a cercare uno oltre il ponte della musica. C'erano dei ragazzi spagnoli. Il tassista gli stava dicendo che per portarli voleva 50 euro. Il tassametro non si metteva dall'Olimpico. L'ho fatto presente alla polizia, che era a pochi metri. E mi hanno risposto, abbiamo le mani legate, siamo in Italia. Io ho risposto, l'Italia la fate anche voi. La polizia sarebbe potuta intervenire. Bravissima, brava Milena. Lo stesso che diceva io. Questo è il problema vero. Questo è il problema vero. Allora, questi sono i problemi. Questa è la cosa vera. E il problema è stato che la polizia intanto non doveva tenerci due ore, ma molto di meno. In più poteva evacuare le persone che stavano ancora sotto lo stadio, anche pacificamente. Non c'è bisogno di picchiare, perché la polizia italiana, un po' quella spagnola, ama picchiare. Magari i tifosi della Roma che stavano semplicemente festeggiando. E liberarci il prima possibile anche per evitare questo. E questa, la testimonianza, ripeto, sta di fatto che purtroppo, in questo paese, andare a vedere una partita di calcio è andare in guerra. Questo significa. Esattamente. Questo significa. E purtroppo non pensiamo che a Torino le cose siano state differenti lo scorso anno. Lo scorso anno a Torino le cose sono state differenti per due motivi molto semplici. Il primo, perché la grandissima maggioranza era venuta con l'opzione del pullman da Barcellona. È vero Joachim? Giusto, quella era l'opzione che ho fatto io. Altri con l'aereo e quindi sono stati trasportati col pullman all'aeroporto. Il resto, che erano molto di meno di quelli che c'erano a Roma, sono potuti andare dopo 40-50 minuti. Siamo stati a Torino lo scorso anno. Forse un'ora direi. Forse un'ora, bravo Joachim. 50 minuti nella Lighiglia. Il vantaggio è che c'era un posto, ti ricordi, che c'era un posto di cibo che si poteva mangiare. Perché? Ma c'era urbanizzazione. Un unico posto di cibo si poteva come minimo comprare un po' di cibo, un po' di acqua. C'era urbanizzazione. Tu ti devi immaginare che, stiamo parlando del 2000, ma anche delle Alpi e del 1990, per i mondiali. Quindi immaginare che dal 1990 a, più o meno, io me lo ricordo, nel 2002, non c'era nulla intorno a delle Alpi. Come a Wembley. Come a Wembley, che c'era nulla e adesso è tutto nulla. A Wembley nel 92 non c'era nulla. Io non ricordo a chi ho detto in questi giorni l'Olimpico. Ho detto, sicuramente un amico catalano che è venuto, di questi che ho incontrato in questi giorni, e ho detto, sei stato a Berlino alla finale? Sì, bene, l'Olimpico è come Berlino. Cioè, è come lo Stato dell'Olimpico di Berlino. Cioè, non c'è nulla intorno. Sono stati degli anni 30, fatti dalle dittature fasciste. E quindi, di conseguenza, intorno a facevano tutte queste cose, diciamo, noi la qui si chiamiamo del Foro Italico. Il Foro Italico, l'Università dello Sport. Esattamente, esattamente. Va bene, andiamo perché veramente abbiamo sfogliato tutti i tempi. Sentiamo la testimonianza di Valeria Guesta e poi rientriamo con i nostri altri ospiti. Ciao Max, ciao Alberto e ciao a tutti i ragazzi, tutti i tifosi Cule. Niente, purtroppo stasera avrei tanto voluto essere in radio con voi, ma per problemi qui sono via, quindi non riesco. Però, grazie a te Max, che mi dai la possibilità di mandare questo audio. E niente, volevo raccontare un po' anch'io la mia esperienza, che risultato a parte, comunque è stata, dal punto di vista Cule, fantastica. E fantastica perché comunque sono riuscita a rivedere tantissime persone a cui tengo, moltissimo, e che vedo sempre volentieri e a conoscerne tante altre che comunque magari con cui parlavo sui social, ma che non avevo avuto il piacere di conoscere, anche se comunque sia c'era già instaurato un rapporto di amicizia. Questa esperienza mi ha dimostrato ancora di più cos'è il mondo Cule, qualcosa che va oltre. Che va oltre perché siamo riusciti a stare insieme in un modo che, cioè, nonostante ci vediamo pochissimo, è come se ci vedessimo tutti i giorni. Cioè, quando siamo insieme è come se ci frequentassimo abitualmente, che da un punto di vista è così. Però alla fine non la vedi la differenza social e umana, nel senso che ci siamo comportati esattamente come farebbero degli amici e una famiglia vera nella quotidianità. E questa è una cosa che a me piace molto per come sono fatta io e che alla fine riscontro forse solo con voi. Sono stata bene, volevo ringraziare tutti, dal primo all'ultimo, non farò nomi perché siete veramente troppi, però vorrei fare una menzione particolare alle mie donne, allo zoccolo duro del femminismo Cule, ovvero Giussi, Valentina, Iurica, Nicoletta, Piera, Patricia, la mamma di Giussi che è fantastica. O Dio spero di non essermi dimenticata nessuna perché è Dobrinca che è veramente una donna da UFO e loro sì, loro ci tengo a ringraziarli perché sono state veramente la mia spalla e il mio appoggio soprattutto dopo la partita. Venendo alla partita io sono assolutamente indignata dalla disorganizzazione che c'è stata a Roma perché siamo stati veramente trattati, so che il paragone è stupido, assurdo, però sembravamo veramente dei prigionieri nei campi di concentramento perché il fatto di tenerci fino alle due chiusi, stipati là dentro senza darci uno straccio di spiegazione è stato veramente qualcosa di brutto, irrispettoso, verso comunque una manifestazione che deve essere prima di tutto sportiva. Quindi ancora una volta l'Italia ha dimostrato la sua inferiorità nel mondo sportivo. Quindi non è niente di nuovo ma diciamo che secondo me stiamo cadendo sempre più in basso in Italia e questa non è stata la dimostrazione perché poi ci sono state vietate le strade, gente che non sapeva come tornare a casa, è dovuta tornare in taxi con relativi furti di gente a cui è stato chiesto 60 euro per fare qualche chilometro o a noi addirittura 30 per farne uno, quindi è veramente qualcosa di assurdo. E in più io personalmente ho avuto l'esperienza del cartellone che ho fatto per Giordi, Giordi Alba, era semplicemente un cartellone con scritto Giordi 18 contigo al fin del mondo, quindi niente di che e mi hanno fatto una non lo so una non mi viene la parola. Comunque come se fosse un cartellone con un messaggio offensivo politico, cioè mi hanno tenuto 20 minuti dicendomi che il cartellone poteva essere infiammabile perché era di carta, quando poi abbiamo visto tutti che dentro giravano Bengala, Bomboni, di tutto. La Valentina Giuffre che era dietro di me aveva in mano un giornale quotidiano che gli è stato dato dagli Stewart o comunque dall'organizzazione romana, quindi mi venite a dire che non può entrare il cartellone di carta e poi voi stessi date i quotidiani, quindi sono incoerenti, disorganizzati e vergognosi, vergognosi per come ci hanno trattato e sono sicura che ai tifosi, lo so che sono scontata, ma ai tifosi del Real Madrid per dirne una non sarebbe stato fatto un trattamento simile, anche se avessero perso come noi. Detto questo, niente, io volevo dire che questa esperienza, al di là dell'essere stata fatta passare come la faccia del dolore perché sono stata inquadrata dallo schermo ed è l'ultima cosa che avrei voluto al mondo, soprattutto in una situazione del genere, però alla fine forse, cioè alla fine mi sono girata ed erano tutti come me, quindi io ribadisco che chi era lì non può capire, chi non si è sbattuto con soldi, tempo, denaro, per l'amore smisurato che prova per il Barça, non può capire fino in fondo ed è una cosa che a me dispiace molto perché ho visto molti, molti leoni da tastiera, cioè ho letto delle cose che vanno al limite della fantascienza, scusate la voce, al limite della fantascienza il giorno dopo, dove dicevano che dovevamo vendere, sostituire immediatamente Valverde, smantellare la società, Iniesta sta bene in Cina, cioè come se gente come Iniesta e Ciavi capitassero tutti i giorni, cioè te ne puoi privare perché tanto ne hai tanti altri, gente come Ciavi, Iniesta, Messi, Puyol, Puyol soprattutto che ieri è mancato, l'altro giorno è mancato, questa gente non si fa, non si costruisce con lo stampo, quindi ho sentito delle cose scritte, delle cose assurde, da gente che comunque è tifosa del Barça all'occorrenza, e scende dal carro, cioè forse anche...